Serve tutto. La partita perfetta va fatta domani, va fatta mercoledì, va fatta domenica prossima. La partita perfetta per noi bisogna che lo sia sempre da quella fine. Certo che andiamo a incontrare una squadra veramente, veramente forte, con dei giocatori veramente importanti. Sicuramente non partiamo sconfitti, perché 11 sono loro e 11 siamo noi. Cercheremo di metterli in difficoltà, come abbiamo sempre fatto con tutti, giocandoci la partita con furore agonistico, con atteggiamento, che è la prima cosa che, ripeto, da mesi e mesi e mesi. Questa deve essere la prima cosa che ci deve essere in questa squadra. E dopo dobbiamo essere bravi a sfruttare quello che ci capiterà. Dobbiamo stare attenti perché è una squadra che può giocare con diversi moduli, che abbiamo preparato. Può farti male in qualsiasi momento e non ci si può distrarre neanche un secondo, non un minuto o due secondi, neanche un secondo, perché sono giocatori che ti possono fare male in qualsiasi modo. Ha cambiato modulo e ha vinto molto bene. Ha giocato con 4-3-3, lo fanno molto bene. Ha giocato anche gli ultimi minuti a Cerignola con un 4-2-4, quindi è una squadra che può fare quello che vuole, con i giocatori che ha può fare quello che gli pare. Noi sicuramente abbiamo preparato le due soluzioni, sia nella fase difensiva che nella fase offensiva, come facciamo sempre, come noi studiamo gli avversari, come fanno gli altri con noi. Ci siamo preparati bene, dobbiamo farci trovare pronti e, ripeto, la tattica, la tecnica, tutte queste cose vengono dopo, secondo me, l'atteggiamento che è quello dell'attenzione, della fame, della cattiveria agonistica. Noi dovremmo mettere in campo prima quello, perché questa è la nostra arma che abbiamo e deve essere in più da qua alla fine. E poi dopo viene tutto il resto. Certo, bisogna metterli in difficoltà, perché se pensi di fare una partita 90 minuti, chiuso nella tua metà campo, chiuso nella tua area, prima o poi lo prendi. E quindi non si può fare una partita così. Noi dobbiamo fare una partita coraggiosa, attaccare nei momenti giusti, difenderci bene e quando abbiamo la possibilità di andare là, fare male.